Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in questo nuovo video dedicato alle Energy Drink. Ormai lo sapete, non recensisco solo lattine di Monster. Tutte le volte che mi capita tra le mani qualcosa di veramente particolare, sono sempre il primo a fare le recensioni. Ebbene, oggi abbiamo qui una lattina di Burn, però non è una lattina come tutte le altre. Se noi la ruotiamo abbiamo una promo della Fiat 500. In pratica possiamo vincere una Fiat 500 partecipando a una sorta di concorso che troviamo qui impresso sul retro della nostra lattina di Burn. Ed eccola qui ragazzi la nostra lattina di Burn. Ditemi se vi piace questa inquadratura, a breve metterò come promesso il tappetino Monster. Sto aspettando che mi arrivi, ci dedicherò un unboxing a tempo debito. Concentrandoci invece sulla nostra splendida Burn, avvicinandola alla videocamera. Ci rendiamo conto che di fatto è classica. Una Burn molto standard, dai colori accesi, divampanti. Vediamo questa fiamma veramente molto molto carina che contraddistingue appunto il brand. Ma se noi ruotiamo questa lattina ed ecco qui che appare la promo. Vinci la Fiat 500. Cerca il codice univoco sotto la linguetta ed inseriscilo sul sito ovviamente della Burn. Per poter vincere e partecipare all'estrazione di una splendida Fiat 500. Io ovviamente ho preso la lattina per il semplice fatto che mi sarebbe piaciuto averla comunque da recensire, soprattutto anche da riassaggiare. Ci tenevo a mostrarvi questa promo dato che comunque è qualcosa di nuovo ed è veramente stupenda. Diciamo che abbellisce ancora di più la lattina e può essere che nel tempo gli possa dare un valore aggiunto. Non si sa mai. Una lattina promozionale è sempre una limited edition, quindi averla tra le mani è qualcosa di stupendo. Ok, giunto il momento di aprire questa Burn. Non uso il bicchiere Monster perché non avrebbe senso. Ok. Fatemi sapere con un commento se vi piace il nuovo modo di inquadrare sostanzialmente la location. Colore classico, come sempre. Possiamo anche riguardare la nostra promo. Molto molto bella con la Fiat 500. Tra l'altro ha pure un codice SKU qua in basso 0421. Quindi ragazzi vediamo anche il produttore che è Ball. Quindi abbiamo tutte le info per caratterizzare anche questa lattina. Proprio a dare fastidio ragazzi. La metto qui la nostra Burn così almeno stona con tutto il resto della collezione. Comunque la proviamo. Ed è classica. Un energy drink molto intensa dal sapore molto marcato sul palato. La riconosciamo che è la Burn. E soprattutto un po' come altri brand un alto tenore di caffeina. Ormai lo sappiamo che le Burn sono una botta allucinante per quanto riguarda la caffeina. Di fatto io stesso consiglio di non berne in quantità spropositate. Spesso se prendiamo in considerazione altri brand i valori di caffeina sono sempre un pelo stabili. Ma qui veramente andiamo a toccare livelli di concentrazione anche abbastanza importanti. Ovviamente tutto quanto è proporzionale alla quantità assunta. Quindi io vi lascio un video in descrizione dove ho parlato in modo tecnico dei livelli di caffeina che si possono trovare nei vari energy drink. Questo può essere anche un po' un orientamento per tutti quelli che vogliono capire i valori che di fatto ci sono e sono concreti all'interno di questo tipo di bevande. Di fatto la Burn in sé per sé rispetto poi anche ad altre energy drink non è che sia così potente. Però ragazzi non è da sottovalutare neanche lei. Come bevanda ragazzi? Sempre molto buona. Voto finale se la devo proprio rivalutare gli do un 8 come standard. È buona. Ma quello che mi intriga di più è quello che voi vedete qui. La promo della Fiat 500. Una bella lattina molto molto particolare. Poi con il design rinnovato perché ragazzi sapete che è cambiato nel tempo e ci ho dedicato anche lì un video informativo. Quelli sul canale non mancano mai. E che dire? Io concludo qui questo video. Se vi è piaciuto come sempre lasciate un like, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci becchiamo alla prossima. Tatuccio TV. Ciao!